Siamo con Gabrielus Giudicas, centrocampista della Primavera, da oggi ufficialmente un calciatore professionista, primo contratto da professionista per lui, firmato qui a Novara e gli chiediamo naturalmente quelle che sono le sue impressioni e le sue sensazioni. So, congratulations Gabriel for your first contract, you are a professionalist player, what does it mean for you? It means a lot, because now I have 18 years old and from my childhood I wanted to play football and I had a dream to be like a professional football and today is Tuesday. So, what does it mean for you to sign your first contract here in Italy? What is Italy for you? How do you feel here? In Italy I feel great and I think in like in Novara it's a good opportunity to me, it's a good club to begin to professional career. And for people, what kind of player you are? I'm kind of a player like I'm playing in a semi-fielder, but yeah, like also like aggressive football, I like the passing, I'm not playing like Ronaldo who's like dribbling to three, four people. Gabriel si è presentato anche come giocatore, è un centrocampista centrale, dice non sono un Cristiano Ronaldo, mi piace passare, mi piace giocare per i compagni, non sono un grande amante dei dribbling, è un centrocampista più di quantità che di qualità per sua stessa ammissione, dice mi trovo benissimo qui in Italia, a Novara ho trovato una grande opportunità di crescita dal punto di vista umano e professionale, è sicuramente una grande possibilità per me quella di giocare qui in Italia, e lo sta facendo bene con la maglia della Primavera che è tra le sorprese più belle del settore giovanile del Novara Calcio, non possiamo che chiedergli le impressioni su questo momento della formazione allenata da Giacomo Gattuso. Quindi, sei un giocatore di primavera che ora vive, possiamo dire, un sogno, sette victoriasi per il team, qual è il segreto di questo momento, per la tua opinione? Oh, è difficile dire, non lo so, perché nel principio della season, ero scoperto per sei mesi, ho avuto scoperto, quando in generale ho iniziato a giocare, e quando ho iniziato a giocare, abbiamo vinto sette game in un'altra, quindi non lo so, magari ho i segreti di victoriasi, ma sono giocato, ma non lo so. Naturalmente, Gabri fa un passo indietro all'inizio della sua avventura qui a Novara, dice, sono stato infortunato per i primi sei mesi quando sono arrivato qui, poi sono arrivato e abbiamo vinto sette vittorie di fila. Dice, sono io il segreto, poi ammette di star scherzando, ma sicuramente ha dato una grande mano al centrocampo della formazione allenata da Giacomo Gattuso, che domenica alle 15.30 qui a Novarello affronterà il Bologna, una gara cruciale per quella che è la corsa ai playoff degli Azzurini. Gli chiediamo che tipo di partita si aspetta. Quale tipo di match do you expect on Sunday against Bologna? Oh, I expect a very hard match, because I think Bologna is a good team, we are in the ninth place, we are in the fifth, we are looking in the playoff, I think they are also looking in the playoff, like, we have had like six points of them, so we are looking only for victory. Abbiamo sei punti che ci separano, loro sono noni. Noi siamo quinti, sarà sicuramente una partita difficile e combattuta, giocheremo per i playoff, per agguantare i playoff dovremo assolutamente vincere domenica. Thank you, Gabri, good luck.